Sì, dobbiamo dire che abbiamo un contratto in seconda e classifica, quindi una squadra ben organizzata, abbiamo trovato un campo un po' pesante, se la prende per loro, quindi magari ha limitato un po' il gioco e le azioni, però noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo riusciti ad andare in vantaggio sulla pallina attiva, abbiamo preso il pareggio con il gioco e secondo me è risultato abbastanza giusto. La Torre è una squadra costruita, anzi ricostruita, è molto molto diverso da quello che la classifica oggi dici. Sì, veniamo da un mese e mezzo che non perdiamo, abbiamo fatto quasi 30 pareggi fino adesso e dobbiamo fare questo miracolo per salvare, siamo ancora indietro, comunque siamo in un buon periodo, dobbiamo continuare così, visto che Sant'Accangelo è una buona squadra, ha fatto tanti punti in giro d'andata, quindi hanno mezzo piede nella c'è unica.